1-2 il risultato tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri siamo qui con il tecnico della squadra di casa mister Cardinale lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio su questa partita perché il primo tempo è stato eccezionale 1-0 poi qualcosa nel secondo te per cambiare sì diciamo che abbiamo fatto il primo tempo in modo esemplare infatti a fine primo tempo ho detto ai ragazzi non avevo nulla da dire hanno fatto diciamo una partita perfetta poi chiaramente abbiamo fatto questo fallo di reazione questa ingenuità e siamo rimasti in inferiorità numerica e chiaramente non era la squadra che dovevamo affrontare il Misilmeri in questo momento diciamo non era una squadra a cui potevamo regalare qualcosa sapevamo che era un avversario tosto in salute però diciamo stavamo facendo una grandissima partita ci siamo complicati la vita da soli e poi giustamente un uomo in meno abbiamo anche regalato un calcio di rigore la partita è cambiata le aziende della partita chiaramente abbiamo fatto il gioco del Misilmeri poi il Misilmeri è uscito fuori per quello che è un uomo in più e chiaramente si è portato la partita giustamente per come si sono messe le cose all'ultimo non è stata molto chiara la dinamica dell'espulsione di Terranova le chiedo lei dalla panchina che idea si è dato ma è stato un fallo di reazione quindi diciamo che c'era stato un colpo del giocatore del Misilmeri e poi c'è stata diciamo la risposta del nostro giocatore quindi credo che l'arbitro diciamo ha visto solo solo il nostro però fallo di reazione va punito quindi è un ingenuità nostra quindi è giustissimo non ci siamo fatti del male da soli oggi adesso invece di uno sguardo alla prossima partita il big match contro la TD club che oggi ha pareggiato tra l'altro come la preparerete e se questa sconfitta potrà dare forse nuova forza in vista del prossimo match ci arriviamo male perché oggi era fondamentale fare il risultato non dico che era importante anche un punto per come si era messa la partita dico purtroppo non è stato così adesso prepariamo diciamo la partita contro la squadra più forte del campionato una delle più forti e cercheremo di recuperare qualcosa che abbiamo perso nelle ultime partite grazie